e allora vettura con la placca numero 41 Eric Campagna con Gabriele Romei a suo fianco siamo sempre in Rally 4 loro che hanno un attivo quest'anno loro che sono Under 25 anche loro quindi una bella lotta andremo a vedere come se la faranno Valli Solano è il 21esimo assoluto è il terzo di classe Under 25 e il quinto di classe R4 quindi insomma già salito sul podio è una classe delle 25 di classe sì sì ma comunque noi siamo qua per divertirci dicono tutti così eh no è che il giro con il Navica che è anziano quindi vuol dire soffre la macchina sì e poi ha le prime armi quindi dobbiamo andare piano a sto giro vabbè dai non cercare scuse schiaccia su quel piedino che se il Navica magari è un po' attempato ma te sei giovane sei Under 25 attempato per poi di Maroni la tua prima gara quella allora quattesimo di fuoco all'ara hai capito va bene dai fateci divertire fallo divertire allora eh hai capito ma per quello era un po' preoccupato eh va bene dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.